Io mi chiamo Andrea Genovali dell'Associazione Punto Critico, per me è particolarmente importante essere qua stasera, sia per l'argomento e per gli ospiti che fra poco presenterò, molto interessanti da sentire, e anche perché questa è la prima iniziativa che facciamo come punto critico, perché finalmente anche a Bologna nasce un gruppo di lavoro di punto critico, nasce soprattutto per l'impegno e la generosità che ha profuso Stefano Pieralli, che fra i mille impegni che riesce a fare è riuscire a trovare uno spazio anche per dar vita a questo gruppo di lavoro che si presenta stasera con questa iniziativa, lui non ha voluto presiedere, ma ha chiamato me per presiedere, ma credo che fosse più giusto che fosse lui stasera a introdurre questo dibattito. Credo che il tipo di incontro che stasera andremo a fare rappresenta credo bene quello che punto critico vuole essere, cioè un momento all'interno della sinistra italiana, un momento di dialogo, di incontro, di confronto su vari temi, cioè tentare di costruire una unità sui contenuti, sulle politiche da fare, un confronto che favorisca appunto un processo di unità all'interno della sinistra. Questo è un po' l'impegno che ci siamo presi come punto critico, lo stiamo portando avanti, domani sempre a Roma faremo un incontro sull'Africa chiamando movimenti, chiamando personalità del mondo dell'Africa a ragionare con noi di come costruire, speriamo dopo la vittoria del 10 aprile, una politica diversa nei confronti dell'Africa da parte del governo dell'Unione. Le nostre iniziative hanno questa caratteristica, lo abbiamo fatto anche sull'America Latina, nella prossima settimana faremo un incontro che ragionerà sul nuovo processo in America Latina, le nuove realtà che vengono avanti, ci confronteremo anche in quell'occasione con pezzi importanti della sinistra politica e associativa italiana. L'incontro di questa sera che segna appunto l'inizio del lavoro di questo circolo vede appunto questi ospiti che alcuni di voi già conoscete che io vado a presentare, che sono Francesco Francescaglia che è il coordinatore nazionale della Federazione Giovanile dei Comunisti Italiani, che è la mia estrema sinistra, Giancarlo Stisi del cantiere di Bologna, Andrea Merighi che è il responsabile della comunità islamica di Bologna, Fausto Sorini che è del Comitato Nazionale di Rifondazione Comunista e ancora dopo Jacopo Venier della Segreteria Nazionale del PDC. Noi abbiamo voluto fare questo incontro alla sinistra e al Medio Oriente proprio perché, come gli incontri che abbiamo fatto e che faremo sull'America Latina e sull'Africa, come associazione vogliamo dare quel piccolo, piccolissimo contributo che possiamo sull'elaborazione di politiche sempre più spostate in avanti, per spostare appunto l'asse politico programmatico dell'Unione, ovviamente nel piccolo e nella modestia dei nostri termini, ma tentare appunto attraverso il dialogo, attraverso il rapporto, attraverso il confronto politico appunto di elaborare sempre politiche maggiormente spostate verso quello che noi riteniamo essere l'alveo ideale dell'Unione, cioè verso sinistra. Io direi di cominciare appunto questo incontro, darei la parola per prima a Francesco Francescaglia che è il coordinatore nazionale della Federazione dei Giovani Comunisti italiani. Io credo che come riflessione noi ci debba partire dal mutato clima e contesto internazionale che in questi ultimi anni ha realmente stravolto le relazioni internazionali e il mondo e che ha avuto come zona geografica, come attore protagonista in Medio Oriente. Credo che non si possa prescindere da un'analisi, seppur breve, dei rapporti, delle dinamiche che ci sono state all'interno di quell'area, che sono tuttora in vigore all'interno di quell'area, per comprendere appunto quale dovrebbe essere la possibile via d'uscita e quindi quali dovrebbero essere poi le politiche dell'Unione, come diceva Andrea Genovale, possibilmente spostate a sinistra per rapportarsi con questa situazione. Vado per flash molto brevemente. Che cosa è successo negli ultimi 13-14 anni in Medio Oriente? Dopo 7 anni di intifari, quindi di lotta del popolo palestinese per l'autodeterminazione e l'emancipazione, si è giunti ad un accordo storico che era appunto l'accordo di Oslo, accordo storico fatto e concluso dai dirigenti di Fatah e che in realtà io giudico un accordo che fosse stato fatto con grande senso di responsabilità da parte dei palestinesi perché prevedeva delle clausole non avanzatissime per quel popolo e per l'avanzamento della costruzione dei due popoli, due stati, ovvero di quanto scritto nelle risoluzioni delle Nazioni Unite soprattutto sulla 242. Era un accordo che prevedeva chiaramente il riconoscimento dello Stato di Israele. Quell'accordo storico appunto sulla base dei quali palestinesi rinunciavano anche ad alcune loro prerogative poi non ha trovato uno sbocco e nei successivi anni lo Stato di Israele avrebbe dovuto compiere dei passi per andare nella direzione della costruzione dei due popoli, dei due stati, passi che non sono stati fatti. Detto molto brevemente, questa situazione, l'incancrenersi di questa situazione ha portato dopo sette anni allo scoppio della seconda intifada, ma ha portato anche a un cambiamento interno alle dinamiche palestinesi, nel senso che se Fatah era stata quell'organizzazione che aveva negoziato gli accordi che li aveva portati al successo, negli anni successivi con il mancato rispetto da parte degli israeliani di quegli accordi ha determinato una presa di potere sempre maggiore dell'estremismo illamico e quindi di coloro che quegli accordi li avevano osteggiati e questo ha potuto far presa anche sul malcontento della popolazione. Quindi anche qui, e lo pongo più come tema di riflessione che come affermazione, si potrebbe dire che in qualche misura le politiche dello Stato di Israele nel non rispettare gli accordi di Oslo in qualche misura abbiano buttato la maggior parte della popolazione palestinese verso l'estremismo illamico. Dopo la famosa passeggiata sulla spianata delle moschee da parte di Sharon è scoppiata la seconda intifada quindi la nuova rivendicazione del popolo palestinese dapprima che chiedeva appunto il rispetto degli accordi di Oslo e poi successivamente caduta questa opzione politica che chiedeva appunto l'emancipazione e l'autodeterminazione di quel popolo. Dopodiché però, come dire, questa è una visione, dipinta in tempo brevissimo, è una visione del tutto interna ai rapporti tra le dinamiche interne al popolo palestinese e allo Stato di Israele. Io credo che, come dire, questa rari sarebbe incompleta se non venisse la portata a tutto quello che è successo in Medio Oriente dopo il 2001, quindi dopo l'11 settembre. Ora è chiaro che gli Stati Uniti d'America hanno sempre considerato strategica l'area mediorientale per i ben noti motivi del controllo delle risorse energetiche e delle risorse petrolifere. Anche negli anni 70 tutti i conflitti che ci sono stati in qualche misura tendevano a quello. Basta pensare al caso dell'Iran, l'Iran degli Shah era appunto uno dei più fedeli e alleati americani insieme allo Stato di Israele, con la rivoluzione che c'è stata poi lì, come dire, gli americani hanno perduto un fedeli alleato in quella area e quindi hanno rafforzato anche in seguito a quel fatto le loro relazioni internazionali con Israele. Dopo l'11 settembre del 2001 tutti quanti noi che abbiamo sempre ritenuto che la soluzione dei problemi mediorientali passasse attraverso la soluzione della questione palestinese abbiamo avuto una conferma un po' curiosa ai nostri spettri più negativi, nel senso che abbiamo visto all'inizio come la Presidenza Bush non si interessasse molto della questione palestinese, almeno in apparenza, ma anche dei rapporti con Israele. Se vi ricordate bene nei primissimi tempi successivi all'11 settembre i rapporti tra Israele e gli Stati Uniti sembravano quasi essersi un po' raffreddati. Anche qua lo so, lo pongo come riflessione e non come affermazione. Questo potrebbe anche essere interpretato nel seguente modo, ovvero gli Stati Uniti decidevano di non intervenire più per interposta persona nel Medio Oriente, quindi affidandosi a uno Stato amico come avevano fatto nei precedenti 30 anni, 40 anni, quindi di affidarsi a Israele per portare avanti le loro politiche nell'area, ma intervenivano direttamente occupando militarmente uno Stato strategico di quell'area e cioè l'Iraq e questo tendeva a dire bene, ora gli interessi nostri nell'area ce li tuteliamo da noi e quindi anche voi israeliani state attenti alle politiche che mettete in atto perché potreste anche non essere più indispensabili per i nostri interessi. Dopodiché a conferma che l'intervento in Iraq sia un completo fallimento abbiamo il fatto che la Presidenza Bush ha dovuto invece restringere i rapporti con lo Stato Cristianaliano e con Sharon, ha appoggiato la costruzione del muro e tutte le ultime politiche che sono state fatte e questo ha chiaramente determinato anche qua un acuirsi delle tensioni in tutta l'area, nonché io credo che abbia determinato anche la vittoria di Amasa alle recentissime elezioni in Palestina, nel senso che insieme a tutta una serie di fattori e di analisi e anche di responsabilità che io credo abbia lo stesso Al-Fatah e che però non si può escludere che in un clima di scontro di civiltà, in un clima di radicalizzazione, di polarizzazione dello scontro anche su basi religiose, la risposta del popolo palestinese sia stata di tipo identitario, di tipo religioso e quindi abbia visto il prevalere di Amasa, determinando anche il fatto che ora la politica di unità nazionale palestinese sembra essere venuta a meno e quindi si è determinata una grossa frattura tra i sostenitori di Al-Fatah e i sostenitori di Amasa. C'è in corso e nell'agenda politica di questi giorni uno scontro istituzionale fortissimo tra il presidente palestinese, Abu Mazen, notissimo esponente di Al-Fatah e invece quelli che hanno vinto le recenti elezioni che hanno cancellato alcuni provvedimenti che rafforzavano i poteri del presidente e quindi c'è in atto uno scontro istituzionale anche all'interno del popolo palestinese. È del tutto evidente che dalle divisioni dello stesso popolo palestinese e gli unici che hanno qualcosa da guadagnare sono appunto gli israeliani e sono appunto coloro che da sempre appoggiano le politiche israeliane. Che fare e quindi come operare se questa analisi ha degli elementi di interesse? Io credo che bisognerebbe provare innanzitutto a spezzare la logica dello scontro di civiltà e credo che bisognerebbe provare a proporre un'alternativa di tipo diverso. Io credo che il soggetto che potrebbe, l'unico soggetto che potrebbe fare una cosa di questo genere sia l'Europa. Europa che però in questo momento ha dato dei segnali importanti ma ha dato dei segnali troppo deboli. Il primo segnale importante è che mentre subito dopo la vittoria di Hamas gli americani per bocca del loro segretario di Stato hanno tagliato i finanziamenti e gli aiuti all'autorità nazionale palestinese mentre invece l'Europa ha detto che verificherà caso per caso e che quindi sostanzialmente non chiudeva il dubinetto. Questo significa, anche qua, significa aver compiuto un atto di responsabilità estrema e significa aver voluto operare per continuare a dare alla politica uno spazio di possibilità e quindi uno spazio per poter andare avanti perché con i finanziamenti internazionali l'autorità nazionale palestinese paga i dipendenti che lavorano, che credo che non ricevano lo stipendio da tre mesi. Tagliare gli aiuti internazionali significa non corrispondere agli stipendi e quindi sostanzialmente significa far andare in banca rotta l'autorità nazionale palestinese. Ora, gli americani i loro aiuti li hanno tagliati, lo Stato di Israele che è quello che filtra comunque sia la tassazione e che poi la rigira all'autorità nazionale palestinese ha detto che non lo farà più. L'Europa invece ha dato un segnale importante dicendo noi questi aiuti li daremo. È un segnale importante, è un segnale ancora troppo difficile. Ora noi come Italia abbiamo storicamente sempre svolto un ruolo importante di dialogo con entrambe le parti, con lo Stato di Israele e con i palestinesi. Con il governo Berlusconi noi abbiamo interrotto una linea di politica estera decennale che l'Italia portava avanti, esponendo tra tutti il nostro paese a dei rischi enormi e quindi noi siamo andati da schizofrenia delle affermazioni di 4-5 anni fa del nostro Premier che disse metterò in campo un nuovo piano Marshall per la Palestina del quale poi non se ne è avuta più notizia, cosa che tra l'altro aveva creato notevoli sicuranze per quel popolo, pensate che loro non conoscendo bene il personaggio probabilmente ci avevano anche creduto, ci facevano anche affinamento e però in realtà noi siamo passati una politica di completa subalternità alla politica estera americana, quindi abdicando ad ogni ruolo di dialogo possibile col mondo arabo e in particolare con i palestinesi. Io penso che su questo noi dovremmo fare una inversione di marcia completa senza proporre nulla di particolarmente rivoluzionario ma semplicemente riproponendo il recupero della politica estera che l'Italia aveva fatto fino a 5 anni fa e che era stata inaugurata da governi democristiani e che era la politica estera della cosiddetta equivicinanza ovvero di avere rapporti tanto con Israele quanto con il mondo arabo cercando di operare per tenere aperto il dialogo e per trovare una possibile soluzione. Io credo che l'Unione si dovrebbe impegnare su questo terreno e dovrebbe far sì che l'Italia abbia un rinnovato protagonismo di politica estera riguardo alla questione palestinese e agli equilibri medio orientali e che quindi debba far valere questa sua posizione non solo come è stato in sé ma debba cercare di aprire un dibattito all'interno dell'Unione Europea per portare gli Stati europei ad avere una posizione rispetto alla soluzione della questione medio orientale, una posizione autonoma rispetto all'attuale morsa nella quale noi ci troviamo coinvolti. Quindi io credo che il compito nostro sia questo, inversione della politica estera italiana e protagonismo dell'Unione Europea come unica possibile alternativa alle politiche americane sulla zona. Ringrazio Francesco Francescaglia. Io devo giustificare Francesco Maringio del coordinamento nazionale dei giovani comunisti che stessa sera non è qui con noi perché è influenzato. Darei la parola adesso ad Andrea Merighi responsabile della comunità islamica di Bologna. Buonasera, grazie a tutti. Più propriamente portavoce del centro di cultura islamica di Bologna perché è una ridimensione del mio ruolo. L'ordine mi sono ancora di più precisando che io questa sera come un'occasione analoghe parlerò a titolo personale in quanto contrariamente a quanto si possa pensare o si è dato credere leggendo vari quotidiani nazionali o ascoltando varie trasmissioni, nei centri islamici molto raramente si parla di politica e anche di politica medio orientale per cui sarebbe assolutamente anche ingiusto che venisse qui a parlare e portasse nella mia esperienza spacciandola per il punto di vista di un centro culturale di qualsiasi orientamento sia. Quindi questa è una precisazione che anche perché a Bologna di recente abbiamo avuto anche problemi proprio e un direttore si è dovuto dimettere proprio per un analogo problema. Detto questo non vi ruberò troppo tempo ma vorrei partire, sono tanti i punti di vista, vorrei partire dal risultato delle elezioni palestinesi che sono assolutamente importanti e segnano una piccola ma significativa svolta nel panorama politico arabo e medio orientale. Abbiamo per la prima volta credo negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una consultazione elettorale sostanzialmente seria, concreta, tra virgolette democratica in cui una parte significativa, non questa grande maggioranza, ma una parte significativa del popolo palestinese ha premiato un movimento che molto più semplicemente senza tirare in campo scontri civili, o questioni religiose, semplicemente ha in questi dieci anni lavorato in maniera concreta per il popolo palestinese, così come era accaduto in Algeria con il FIS, quindi il fronte islamico di salvezza che aveva negli anni precedenti, in quel caso creato dal ministro dell'interno algerico, ma era un altro discorso, favorito uno sviluppo anche sociale molto significativo per l'Algeria, in questo caso Amas ha fatto la stessa cosa e quindi è stata premiata anche e soprattutto ha perduto in qualche modo la endemica corruzione di cui l'autorità palestinese si era in qualche modo macchiata e resa responsabile nel corso degli anni e Amas da questo punto di vista partiva da un punto di assoluta forza. Una settimana circa dopo questo risultato non dico straordinario ma molto importante, c'è stata una conferenza stampa, si è tornata una conferenza stampa al Cairo in cui il portavoce di Amas, che è altrimenti esone a Damasco, ha dato una lezione molto importante, grande equilibrio e intelligenza politica di cui pochissimi hanno parlato, come in generale pochi parlano, a parte cito due eccezioni, Stefano Chiarini del Manifesto o Giulietto Chiesa, tanto per fare due esempi di giornalismo abbastanza intelligente equilibrato, dicevo pochi, non parliamo delle televisioni, ma quasi nessuno ha parlato di questa conferenza stampa. In essa, la sintetizia ovviamente, non c'è il tempo di farlo, le linee guide di Amas che Amas delineava dopo la vittoria elettorale erano queste, innanzitutto la tutela degli interessi palestinesi all'interno dello Stato e riguarda i profughi, i 2 milioni di profughi, questo è un altro tema su cui non solo Israele ma anche gli altri stati arabi sono sempre stati molto reticenti in questi anni e per tutelare questi interessi Amas delineava la necessità, questo è il primo punto molto importante, di creare un governo di coalizione con la stessa Al-Fatah e con gli altri principali soggetti palestinesi, garantiva ad Abu Mazen un trattamento in maniera molto concreta, molto più serio e amichevole rispetto a quanto gli stessi compagni di Al-Fatah gli stanno riservando, individuava, questo è l'altro punto che ci interessa direttamente, individuava nell'Europa il principale interlocutore, nei paesi europei, il principale interlocutore politico di questo eventuale governo di coalizione dichiarava di essere aperto anche ad avere rapporti con gli Stati Uniti d'America e riguardo in maniera subordinata rispetto all'Europa che indicava come primo interlocutore, riguardo Israele ammetteva, diceva chiaramente di non avere richieste dirette da rivolgere allo Stato di Israele ma si dichiarava disposto, cosa che non è assolutamente passata nei nostri mass media, si dichiarava disposto a trattare con lo Stato di Israele partendo sulla base dei confini del 67, però questo lo metteva in subordine, è garantiva per sì da un punto di assoluta forza che verrebbe gestito in maniera assolutamente corretta e non sarebbe finito un centesimo degli eventuali finanziamenti versati al popolo palestinese nelle tasche dei dirigenti di Hamas e questo è stato il punto di forza che ha consentito anche di vincere le elezioni palestinese. Ora la reazione alle elezioni di Hamas da tutti i punti di vista anche in quel settore della sinistra che avevano fatto della causa del popolo palestinese un punto di forza hanno sostanzialmente sottolineato un punto chiave, ossia hanno chiesto da ogni parte, chiedono e si chiede ancora a squarciagola allo Stato di Hamas di rinunciare, cioè di riconoscere lo Stato di Israele. Ma nessuno chiede, questo è un punto chiave molto importante, nessuno chiede, nessuno neanche ha avanzato, ha fatto notare che in tutti questi anni lo Stato di Israele non ha mai riconosciuto e rispettato la risoluzione dell'ONU e quindi a fronte di due soggetti, un'entità statuale israeliana molto forte economicamente, militarmente, politicamente piuttosto solida e di fronte a un soggetto estremamente debole come il movimento di Hamas è in genere il popolo palestinese, l'Occidente, l'Europa nonostante alcune concessioni chiede al soggetto più debole una missione che politicamente non può fare, perché anche se volesse, ma non credo lo voglio, in questo momento avendo vinto l'elezione non potrebbe abdicare a quella che è una delle sue principali interrogative perché sarebbe vista all'interno del mondo arabo come un palese tradimento di quello che ha un impegno politico coerente nel corso dei decenni, quindi una richiesta assolutamente inaccettabile, improponibile dal punto di vista strettamente politico, non parlo di linea di principio né di fondamentalismo religioso, mentre invece non si chiede al soggetto più forte di rispettare quello che è un minimo di parvenza e di legalità internazionale, quindi una forza di governo, una forza, una sinistra che auspica legittimamente, questo mi fa del tutto piacere, di essere forza di governo deve comunque tenere presente che se vuole ripercorrere una politica anche di una certa equidistanza deve in qualche modo proporsi, se è difficile farlo, con un certo equilibrio, una certa misura. Ora torniamo un attimo indietro, se noi guardiamo alla conformazione geografica dell'Italia, non si è detto prima ma si può aggiungere, l'Italia è proprio geograficamente protesa come un ponte nel mar Mediterraneo, una protesa verso la sponda meridionale del lago Salato e questa conformazione geografica può essere, presuppone due tipi di opzioni, può favorire il tipo di soluzione, può in maniera di tutto naturale costituire un ponte verso il mondo arabo, verso il vicino oriente e quindi favorire una cooperazione politica, economica, una partnership in qualche modo costruttiva o può molto più semplicemente costituire una porta aerea, protesa, verso le stesse direzioni. È evidente che la politica di questi ultimi cinque anni ha proteso per questa seconda soluzione, un totale allineamento all'amministrazione Cenei e in qualche modo uno squilibrio molto forte a favore degli interessi israeliani. Ora ha fatto sorridere il Ministro della Difesa, lo stesso Ministro che una settimana fa parlava, tirava in ballo la presida greca al fatto per descrivere l'omicidio del Dottor Nicola Calibro in Iraq, faceva specie che lo stesso Ministro della Difesa tra quattro mesi fa salutasse con grande gioia il fatto che gli americani smantelleranno la base militare a Lampedusa, dimenticando di dire che in Italia ci sono 113 basi americane. Ora è evidente che se la sinistra e se l'Unione governerà non potrà rivedere in tempi brevissimi questa collaborazione, è del tutto evidente, ma se l'Italia come spero in quanto punta avanzata di una rinnovata politica militerranea europea vuole riequilibrare, vuole svolgere un ruolo abbastanza equilibrato in questo contesto, credo che il problema anche della partnership e della lenta in ambito nato deve essere un tema da affrontare seriamente ma da affrontare e non da tenere nel cassetto per cinque anni. Mi rendo conto che questo è abbastanza difficile e ci sono tanti segnali che sono anche abbastanza inquietanti. La settimana scorsa, dieci giorni fa, si è tenuta una manifestazione a Roma organizzata dai comunisti italiani, mi sembra, a favore della Palestina, in cui i soliti deficienti hanno bruciato bandiere israeliane e americane, qualcuno ha anche inneggiato alla strada di Nasseria, ma consentendo poi i soliti noti di liquidare questa manifestazione. Il segno inquietante è che tre o quattro giorni dopo la comunità ebraica locale ha sceso in piazza in un tripù di ribandiere con gigantografie, con la foto dell'onorevole di Liberto e di Raffat, in quello che è un chiaro avvertimento mafioso ma che fa capire in qualche modo quello che è il clima. E non è un caso che sia Berlusconi che il nato e il ministro degli esteri siano andati, o i fini dopo anni di tentativi, siano andati a piangere in Israele. Qualcosa di analogo probabilmente lo farà anche Romano Prodi se andrà al governo. Quindi ci rendiamo conto che il clima politico internazionale risente comunque di determinati pesi e forze. Ora concludo, per quanto riguarda l'Iraq, da un lato è evidente che gli Stati Uniti stanno perdendo militarmente, nel senso che subiscono delle periche e la resistenza ogni giorno più forte. ma credo che non sia così immediato, così semplice, ritenere che gli Stati Uniti siano andati lì per controllare una risorsa strategica. Evidentemente l'Iraq è uno stato strategico, è stato anche un grosso favore a Sharon andarci, ma gli Stati Uniti stanno realizzando quello che è uno scopo invece molto chiaro, che già anche Kissinger e l'Inaus, è quello di distrugge l'Iraq, e probabilmente succederà qualcosa di analogo all'Iran, ma queste sono solo probabilmente una tappa in quello che è l'obiettivo finale, che è la Cina. La destabilizzazione del Medio Oriente non serve tanto a rinforzare per un attimo, a mantenere una maggiore relativa sicurezza dello Stato di Israele, quanto punta a un predominio continentale. E l'obiettivo finale è la Cina, almeno a mio modestissimo modo di vedere. Siccome la Cina ha una prova contraria a un paese comunista, e credo lo sarà ancora per molto, credo che la sinistra, non solo quella italiana, ma la sinistra a livello europeo, debba porsi il problema di quello che sta accadendo, e credo che debba porsi il problema di un eventuale ruolo di mediazione, anche in politica internazionale, che sia in qualche modo utile alla risoluzione dei problemi. Vi rendo conto che è molto difficile, nessuno si illude che questo possa accadere in tempi brevi, ma credo che se vogliamo in qualche modo invertire la malefica tendenza che se ne è stata a partire dall'11 settembre, ma già da prima, credo che la sinistra a questo tipo di problematiche se le debba porre, possibilmente in maniera seria. Vi ringrazio. Ringraziamo Andrea Meridi, dare la parola a Giancarlo Stisi del Cantiere di Bologna. Ma sì, io sarò breve, insomma. Io credo grafico un'area molto estesa, ma di straordinaria importanza strategica. Sono in ballo una serie di questioni, in particolare c'è la questione del controllo e del dominio delle fonti energetiche che in paesi come l'Arabia Saudita, che peraltro è fedele alleate degli Stati Uniti, e l'Iraq, che è sostanzialmente la riserva petrolìpera più importante, questo ovviamente determina e ha determinato, considerato anche il ritardo degli Stati Uniti a proposito dell'utilizzazione di nuove fonti energetiche, a parte il nucleare, e quindi la necessità da parte degli USA, considerando le loro necessità strategiche, da questo punto di vista, di assicurarsi il dominio e il possesso, anche diretto, come del resto la guerra e il Miracle, testimonia. A questo punto di vista apro una piccola riflessione, che è questa. Tutti noi ricordiamo nel 91, quando scatenarono la prima guerra del Golfo, tutti si meravigliarono e si sorpresero, anche i commentatori, diciamo così, di geopolitica, del fatto che gli Stati Uniti si arrestarono prima di arrivare a Badrath, lasciando in piedi il regime di Saddam, Saddam Hussein che fino a quel momento non era descritto come viene oggi descritto, e cioè un sanguinario dittatore che ne aveva combinate di tutti i colori, però ci ricordiamo che gli Stati Uniti utilizzarono Saddam Hussein per cercare di destabilizzare il regime dell'Iran e hanno ampiamente finanziato Saddam Hussein, fornendogli armi, materiali, anche strategici e quindi dando la possibilità ad un regime che tutto sommato da solo non avrebbe potuto sostenere quello scontro, di erreggere un conflitto che è durato, se non ricordo male, otto anni. Tutti se lo ricordano questo. Producendo centinaia di migliaia di morti dall'una e dall'altra parte. Un conflitto sanguinoso che però non è approdato ad un risultato come quello che probabilmente gli Stati Uniti allora si auguravano. Scatenare la prima guerra del Golfo con il pretesto che Saddam Hussein aveva occupato il Kuwait che tutti però dovrebbero ricordare che era, sin dall'inizio, una effettiva provincia irachena quando l'Iraq fu costituito. Quindi era una rivendicazione. Ho il sospetto, è una mia convinzione personale, che Saddam Hussein sia caduto in una trappola in quella circostanza, perché sono convinto che la decisione di Saddam di annettersi il Kuwait fosse stata presa a seguito, diciamo così, di un ok che il Dipartimento di Stato magari gli aveva dato. Beh, naturalmente queste sono supposizioni che non potranno essere mai dimostrate, ma non c'è dubbio che se si considera in maniera analitica e anche critica l'andamento dei fatti, beh, insomma, qualcosa del genere deve essere accaduto. La trappola è scattata e il regime ha cominciato ad essere destabilizzato. Si è fermato a Bagdad perché probabilmente il costo, diciamo così, di quell'avventura sarebbe stato allora troppo elevato, ma al tempo stesso gli Stati Uniti sono riusciti ad ottenere dall'ONU, che tutto sommato, come voi sapete, è anch'essa ormai una sorta di provincia americana, è una risoluzione che ha imposto l'embargo all'Iraga. Un embargo che ha avuto delle conseguenze spaventose in quella nazione, nel senso che a pagare il costo di quell'embargo non è stata naturalmente la Guardia Repubblicana che era direttamente, diciamo così, a difendere il dittatore, ma a pagare il costo è stata purtroppo la popolazione civile perché questo è quello che accade. Ed è questo quello che accade quando, utilizzando un terrificante ossimoro, che è quello della guerra umanitaria, io ricordo semplicemente l'articolo 11 della Costituzione italiana, una Costituzione che nei suoi principi fondamentali è tra le più avanzate al mondo. L'Italia ripuglia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione, anche questo si dice, delle controverse internazionali. È vero che c'è una seconda parte ed è questa la seconda parte che è stata utilizzata per giustificare la guerra in Kosovo, per giustificare la prima guerra del Golfo, per giustificare ogni altra azione militare che è stata in questi ultimi decenni portata avanti in quasi tutto l'orbe terraquio. Consente l'Italia, in condizione di parità con gli altri stati, però c'è anche questo inciso, in condizione di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Qui non si parla di importare la democrazia che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Ed è questo quello che è stato utilizzato dal governo D'Alema, lo devo dire purtroppo, ed è stato utilizzato anche in tempi recenti, ovviamente, per giustificare le spedizioni militari che avevano lo scopo di impedire le cosiddette pulizie etniche. Ora, si poteva ovviamente usare qualche altro strumento come per esempio le forze di interposizione Nato che avrebbero potuto impedire, ovviamente, naturalmente cercando di controllare anche, che ne so, gli armamenti che venivano inviati tranquillamente da tutti i paesi occidentali e foraggiati tra diverse parti in conflitto. Quindi ci sono questi aspetti che configurano una situazione da un punto di vista geopolitico straordinariamente difficile. Quale potrà essere per l'Unione il compito di definire una nuova politica che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni? Ci vorrebbe, primo, una riforma dell'ONU con l'abolizione, per esempio, del diritto di veto delle nazioni cosiddette vincitrici dell'ultimo conflitto mondiale. Ci vorrebbe, evidentemente, una riforma che assicuri pari dignità a tutti gli stati che ne fanno pari, mentre così non è oggigiorno. E occorrerebbe che si costituissero, questo è un sogno, di qualunque persona che voglia sfruttare la propria intelligenza ai fini della costruzione di una pace mondiale, di una nuova giustizia mondiale. Ci vorrebbe, evidentemente, la costituzione degli Stati Uniti d'Europa. Perché dopo il crollo dell'Unione Sovietica e dopo la fine del cosiddetto equilibrio del terrore, evidentemente non si riesce ad individuare nulla che possa impedire agli Stati Uniti la sua politica di potenza. È una specie di nuova, come posso dire, di nuovo principio, la dottrina Moore, per cui tutto ciò che serve agli Stati Uniti giustifica anche le azioni militari. Per cui laddove e quando gli Stati Uniti ritengono che la loro sicurezza, le loro capacità e possibilità di sviluppo siano messe in discussione, evidentemente essi agiscono al fine di impedire che ovviamente si possa determinare qualcosa che metta in pericolo la situazione, quindi la supremazia degli Stati Uniti d'America. La seconda guerra, diciamo, scatenata, ovviamente questa volta non è riuscita a determinare la grande coalizione mondiale. ha determinato viceversa una divisione interna all'Europa, quindi allontanando anche la prospettiva politica che noi sogniamo, quella degli Stati Uniti d'Europa, che possono dare forza alla capacità e possibilità di costruire la pace nel mondo. Vengo quindi a questa situazione per cui, e finisco con l'Iraker brevemente, la seconda spedizione evidentemente è stata preparata ed è, come dire, ingenuo credere che tra il 91 e appunto il, quando è accaduto, nel 2003, con la seconda spedizione, e c'è da domandarsi se appunto le imprese del cosiddetto terrorismo internazionale, che bisognerebbe che fosse fatta chiarezza a proposito anche su questo, perché sembrano che siano, come dire, degli strumenti che determinano molto spesso quello che i latini chiamavano il casus belli, no? Sì, vabbè, c'è anche da dire cui prodest evidentemente ha favorito le scelte strategiche degli Stati Uniti, insomma, bisognava scatenare la guerra contro il terrore, terrore che però gli Stati Uniti, mi dispiace dirlo, hanno sempre alimentato, in ogni forma, perché, come dicono le persone che cercano di ragionare, per eliminare il terrorismo bisogna agire sulle cause che possono determinarlo e quindi bisognerebbe prosciugare l'acqua in cui navigano, no? Naviga il terrorismo, questo è quanto. Ma tutto ciò non è stato fatto. L'Europa è rimasta silenziosa e quello che naturalmente si è ricostituito come alleanza si è ricostituito un'alleanza tra stati, lo devo dire, reazionali. Blair ha rotto l'unità europea, Berlusconi gli è andato dietro, gli è andato dietro la classe dirigente polacca e gli Stati Uniti d'America si sono divisi su questo. Inizialmente c'era Aznari in Spagna, no? E quindi anche la Spagna, salvo che poi i casi successivi e tutto ciò che è accaduto ha per fortuna determinato il fatto che la Spagna si sia chiamata fuori da questa avventura. E' vero che, quello che dicevi tu, no? Che la guerra in Iraq non si può giustificare soltanto con l'interesse statunitense al, diciamo così, al completo dominio e possesso delle fonti energetiche. Non c'è solo questo. C'è anche evidentemente la possibilità di destabilizzazione di un'intera zona strategica e qui c'entra anche ovviamente la questione tra Israele e Palestina. Concludo facendo una semplice riflessione a proposito della recente vittoria di Hamas. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma insomma, Hamas non ha vinto le elezioni semplicemente predicando la lotta armata e il terrorismo. Ha vinto le elezioni predicando la lotta alla corruzione. E bisogna anche ricordare che quando Hamas fu scostituita fu costituita, insomma, se non ricordo male la mente di Hamas era il famoso sceico Yashim, quello che è stato assassinato con uno di quegli omicidi mirati di cui nessuno parla o nessuno dice che anche Israele lo ha detto però di recente se non sbaglio nel 2004 Amnesty International che Israele ha commesso e commette crimini di guerra. Anche se per una ragione di equidistanza le azioni, diciamo, individuali contro la popolazione civile israeliana sono crimini contro l'umanità. Hamas quando si costituì comunque fu favorita persino da Israele. Ce lo siamo dimenticati? Ce lo siamo dimenticati che Israele per screditare l'OLP Hamas per inciso non ha mai fatto parte dell'OLP non credo di dire una cosa inesatta tu del resto mi puoi smentire non ha mai fatto parte dell'OLP Hamas ha sempre agito con un'azione che era duplice un'ampia azione sociale utilizzando una rete diciamo così che costruiva ospedali dava assistenza alla popolazione ai bisognosi addirittura costituendo anche università quindi agendo anche sul piano culturale quindi praticamente diventando un'organizzazione la cui importanza è sempre stata riconosciuta dal popolo palestinese e nel momento in cui appunto Hamas si costituiva per screditare stavo dicendo la organizzazione per la liberazione della Palestina l'OLP anche Israele ha favorito in particolare a Gaza se non sbaglio in particolare in altri territori occupati da Israele no ha favorito il radicamento di Hamas ora basta ricordare adesso tutti dicono ah con Hamas non si può discutere non ci si può confrontare perché è un'organizzazione terroristica è qualcosa che mi fa semplicemente sorridere se devo dire perché anche il generale Rabin che poi è stato ucciso da un fondamentalista israeliano perché aveva accettato diciamo così di discutere di confrontarsi con con l'organizzazione per la liberazione della Palestina con la cosiddetta autorità palestinese e beh pur avendo qualche motivo da un suo punto di vista di rifiutare il confronto lo ha accettato perché evidentemente bisognava agire per arrivare ad una soluzione dell'annoso conflitto qui ci troviamo di fronte ad una situazione in cui uno stato che si è costituito e bisogna anche questo dire anche se doloroso si è costituito a seguito di un senso di colpa e del complesso di colpa dell'Europa e dell'Occidente intero dopo appunto la Shoah allora bisognava costituire lo stato di Israele dopo che appunto dopo la prima guerra mondiale la dissoluzione dell'impero ottomano aveva determinato una divisione diciamo così di tutto il cosiddetto Medo-Orente tra la Francia e l'Inghilterra e anche la Russia anche la Russia e quindi la situazione è questa allora per concludere il problema fondamentale è quello di cercare di operare al fine di creare qualcosa che possa riconoscere la duplice dignità dei due popoli quello israeliano e quello palestinese è inutile evidentemente dolersi di quello che è accaduto ormai gli ebrei dopo la loro diaspora sono confluiti in Israele all'inizio dell'Ottocento quando ci fu la prima immigrazione il rapporto di popolazione ricordo solo questo era 1 a 40 no 1 a 40 già nel 67 il rapporto si era notevolmente come dire avvantaggiato per Israele era diventato 1 a 9 pensate un po' adesso se non vado erato è 1 2 è così ho fatto un semplice di tutta l'area di tutta l'area naturalmente compreso lo stato di Israele che poi si è annesso il Golan le alture del Golan più naturalmente considerando anche le zone occupate dai coloni israeliani e così via il rapporto attuale è 1 a 2 allora ovviamente una soluzione che possa essere una soluzione sensata non può che essere quella della costituzione di due popoli due stati potrebbe essere anche può darsi che sia un sogno potrebbe essere anche un unico territorio con uno stato federativo però per poter arrivare a queste conclusioni ci vuole la presenza di una nuova forza che non può che essere e questo è il sogno mio che non può che essere rappresentata dal futuro dalla futura Europa o stato europeo e concludo così ringraziamo Giancarlo Stisi dare la parola a Jacopo Viniere segreteria nazionale dei comunisti italiani ma io credo che il tema che abbiamo questa sera nelle ultime settimane abbia fatto discutere parecchio a sinistra e che qui sia necessario tornare su alcuni argomenti che abbiamo visto in questi ultimi giorni perché la violenza con cui si è scatenata una campagna di aggressione politica nei confronti in particolare del nostro partito ma non solo del nostro partito sul tema appunto di quale politica estera l'unione dovrà avere sullo scacchiere medio orientale dimostra il fatto che l'Italia non è un paese ininfluente e che una politica o un'altra politica cambiano che una coalizione o un'altra coalizione modificano la predisposizione e la possibilità di sviluppare strategie e piani che sono in corso di attuazione per il Medio Oriente cinque anni il governo Berlusconi hanno cambiato la politica estera italiana lo diceva prima Francesco noi avevamo una tradizione politica discutibile però saggia in qualche modo che era quella non dell'equivistanza ma dell'equivicinanza nel senso di una capacità di interpretare le ragioni che avevano portato alla nascita dello Stato di Israele su cui concordo nel senso di colpa storico la violenza con cui è nato lo Stato di Israele perché non è antisemita ricordare la storia e cioè è l'antisionista che è diverso da essere antisemita ho letto che Fassino rivendica al sionismo un elemento strutturale all'interno della storia della sinistra su questo si dovrebbe aprire un dibattito serio direi non solo siamo accusati cioè anche avere dei dubbi sul sionismo può essere elemento di una criminalizzazione di posizioni al di là di questo terreno voglio dire che bisogna che l'Italia aveva appunto interpretato la sua funzione nel terreno del Mediterraneo nel senso di avere un dialogo profondo e una capacità di azione equilibrata sia in relazione con Israele sia in relazione con tutto il mondo arabo e la chiamava Andreotti equivicinanza che mi sembra un termine efficace e che andrebbe ripresa Berlusconi ha invertito questo termine e ha schiacciato la posizione italiana sulla posizione israeliana bisogna partire da qui i più grandi amici di Israele sono oggi il governo italiano e c'è un filo che mette insieme Bush l'amministrazione Bush Charon e Berlusconi Berlusconi sono il capo finale di questa triade e che ha cambiato la posizione non solo italiana ma europea nel Mediterraneo e l'obiettivo è quello di una destabilizzazione totale dell'area medio orientale per la sua ricomposizione dentro quel progetto che è quello del grande Mediterraneo sotto l'egemonia nata allora l'Italia è funzionale a questo progetto oggi l'Italia di Berlusconi noi abbiamo detto semplicemente molto con atti politici anche quello di aver sostenuto da soli come partito ma c'erano anche i compagni dell'onesto e c'erano altre organizzazioni politiche in piazza a manifestare per la Palestina che era opportuno in questa fase tenere aperta la discussione sulla Palestina perché la politica dell'Unione doveva avere una netta discontinuità rispetto a questa impostazione di Berlusconi che non è autonoma perché Berlusconi non ha una politica estera è un strumento di una politica di dominio imperialista che viene dall'amministrazione Bush e abbiamo provato a spiegare appunto che bisognava fare uno scarto rispetto a questa politica la reazione è stata la visita di Rutelli in Israele che ha detto l'unica cosa buona che ha fatto Berlusconi sulla politica estera è la nostra relazione privilegiata con Israele e la reazione scomposta di aggressione politica nei confronti di un partito dell'Unione non solo dalla parte della destra che si potrebbe immaginare ma dei nostri alleati che hanno seguito hanno trovato un pretesto da atti stupidi dal punto di vista politico dal punto di vista della sostanza per cercare di sterilizzare di bloccare una posizione ora questo tutto per dire che appunto sul Medio Oriente la politica estera dell'Unione è aperta se leggiamo il programma troviamo pochi riferimenti e pochi impegni è stato un complicato il tavolo dell'Unione in particolare su questo terreno non si voleva quasi citare la Palestina si è introdotto un principio che è il principio del rispetto delle risoluzioni internazionali che non è poco è semplicissimo a spiegare che non può esserci un paese al mondo che è Israele che è impunito che a cui è permesso la violazione sistematica di tutte le regole e le norme definite sul piano internazionale allora io la dico così non lo so qual sarà la politica estera dell'Unione sul Medio Oriente nel senso che il programma è una cornice che andrà riempita dai rapporti di forza che si determineranno elettoralmente e dalle condizioni di movimento perché senza una condizione di pressione sull'assetto politico dell'Unione difficilmente modificheremo quello che è sicuro è che se noi vogliamo conquistare il nostro paese un ruolo nel centro del Mediterraneo dobbiamo completamente invertire la logica della partecipazione subalterna a un'operazione neocoloniale dei caratteri imperialistici che ha come scopo principale e immediato non solo l'acquisizione e il controllo diretto con le truppe della risorsa energetica in funzione allo scontro con la Cina questo sono d'accordo ma non solo per il controllo delle dinamiche di sviluppo economico europee prima di tutto con il controllo della dinamica dei prezzi dell'energia teniamo conto che le norme dei conflitti di interesse del pianeta è quello dell'amministrazione Bush che è formata dai rappresentanti diretti delle multinazionali dell'energia quindi loro con lo strumento della guerra definiscono la quantità di profitto che arriva direttamente alle multinazionali ma dico questo significa ottenere l'applicazione della nostra Costituzione in modo fermo e allo spirito della lettera e quindi ritiro immediato dai truppi ma pensate che difficile è stato introdurre solo un elemento che sembra marginale ma è fondamentale nel programma dell'Unione siamo riusciti con una battaglia politica sembrava che eravamo soli poi alla fine non è stato così perché se non ci fosse stato attraverso oltre al PD dei Comuniti italiani anche una discussione delle altre forze politiche e nel movimento sarebbe riusciti di introdurre l'elemento che il ritiro arriverà in termini tecnici necessari al ritiro già ancora ci sono margini di abiguità importanti e pericolosissimi dentro quella formulazione ma all'inizio avevamo una formulazione che diceva noi proporremo immediatamente il ritiro delle truppe consultate le autorità irachene e garantite le condizioni di sicurezza quando io mi sono trovato a quel tavolo ho chiesto ma scusate cosa ci interessa quando proporremo il ritiro a giugno votiamo il rifinanziamento delle truppe si vota no il rifinanziamento delle truppe il ritiro è immediato cioè non è quel punto quando si presenterà è quando si realizza il ritiro e i temi della sicurezza la sicurezza di chi? delle truppe che devono ritirarsi allora scriviamo e poi alla fine abbiamo scritto che avverrà nei tempi tecnici ma non è stato così semplice perché anche sull'Iraq c'è un'ambiguità c'è chi dice bisogna gestire il ritiro c'è Fassino che dice sostanzialmente dobbiamo ritirarci concordandolo con gli americani alla fine del 2006 sostanzialmente la stessa cosa che dice Berluscon e invece noi non solo dobbiamo ritirarci per un problema di coerenza rispetto alla nostra Costituzione il fatto che quella è una missione illegale che siamo parte di crimini cioè ieri si è stata la denuncia di Amnesty International sul fatto che le carceri irachene sono piene di detenuti senza processo torturati sistematicamente io voglio sapere se i militari italiani quando catturano i rachieni a chi li consegnano noi abbiamo visto che Abu Ghraib è anche frutto di una collaborazione con le truppe italiane ora questo noi non lo sappiamo perché non sappiamo nulla di quello che succede in Iraq possiamo immaginare che questo ci sia ma c'è anche un punto politico se noi non diamo un segno di discontinuità immediato rispetto alla politica di Berlusconi come ricostruiamo una relazione positiva con il mondo arabo che ci mette nella possibilità di fare un'operazione di pace e di sconfitta della logica e lo scontro di civiltà come paese quindi è anche simbolicamente importante che il governo dell'Unione immediatamente ritiri le truppe e dia un messaggio chiarissimo a tutto il mondo arabo e non solo il mondo arabo io sto pensando al Mediterraneo faccio solo altri due esempi il Mediterraneo diceva giustamente il portavoce della comunità islamica qui di Bologna l'Italia è una portaerei o è un ponte e appunto si legherà e io prendo le tue parole al tema delle infrastrutture militari funzionali della guerra preventiva che sono all'interno del nostro paese allora riusciremo come sinistra a porre il tema delle basi statunitensi non per dire che con opzioni impossibili nell'immediato dobbiamo immediatamente uscire dalla Nato obiettivi che non stanno nelle relazioni di forza attuali ma dire che i casi che si sono verificati ultimo l'utilizzo di Aviano come Guantanamo per il trasferimento illegale criminale di prigionieri americani catturati da agenti della CIA nel nostro paese in modo si dice senza consenso il conforto del governo italiano insomma in modo illegale e poi trasferiti in Egitto dove sono stati torturati al punto che non possono più vivere insomma queste sono cose che dobbiamo porre o non dobbiamo porre nel prossimo contesto politico e infine faccio un ultimo il Kurdistan noi stiamo discutendo del Medio Oriente la Turchia è un punto centrale di equilibrio rispetto al Medio Oriente noi credo che questo tema e cioè il tema di che relazioni noi avremo con la Turchia e c'è e sta anche dentro a che idea di Europa noi abbiamo perché l'ingresso della Turchia a me sembra che si dice noi pensiamo all'ingresso della Turchia perché pensiamo che con l'ingresso della Turchia in Europa gli standard di diritti si allarghino in Turchia il contrario io credo che l'Europa sta assumendo il modello turco in termini di espulsione delle minoranze politiche religiose quant'altro rispetto alla vita politica in Turchia c'è una legge elettorale che lo conoscete che ha lo sbaramento del 10% fatto apposta perché i kurdi non possono avere rappresentanza della funzione delle forze armate nell'indirizzo e nell'influenza sullo Stato e infine sulla funzione anche di un'idea di laicità che non c'è e che anche nella parte diciamo nostra vediamo quanto ci sia una pressione delle gerarchie religiose autoctone perché un altro non posso considerare cioè quelle cattoliche per prendere per riassumere un ruolo fondamentale nell'indirizzo dello Stato allora concludo dicendo è aperta la questione non è definita dipende dal rapporto di forza e dipende anche da queste discussioni da questi appuntamenti come quelli che organizziamo questa sera c'è la capacità di allertare il nostro popolo e di dire che certo e tutti siamo chiamati al principale degli obiettivi che è quello di battere per gli scuoli ma che dal giorno dopo ci sarà un altro problema e sarà il problema di dare traduzione concreta agli impegni e alla cornice che tutti insieme abbiamo sottoscritto nel programma dell'Unione grazie grazie per lo meno in questa sala ci auguriamo tutti senza dubbio alcuno che l'esito elettorale veda la sconfitta del governo Berlusconi della coalizione di centrodestra e in questo quadro anche una affermazione delle forze di sinistra alternativa di sinistra critica e in questo ambito anche lasciatemelo dire delle forze delle diverse componenti che si richiamano ad una identità comunista possibilmente non le une a scapito delle altre ma insieme a scapito delle componenti più moderate dell'Unione credo che questo auspicio non ci esime però in una sede come questa da un esame critico rigoroso come del resto accennava anche Jacopo Venier del programma di politica estera dell'Unione e io vorrei partire da lì più che partire dal Medio Oriente poi al Medio Oriente ci arrivo se faccio in tempo ma comunque già tante cose sono state dette e poi si apre anche una discussione un programma che presenta luci e ombre debolezze contraddizioni che in una qualche misura a mio parere anticipano oggi quelli che saranno i conflitti anche interi all'Unione di domani in un quadro internazionale tutt'altro che pacificato io vedo questo programma di politica estera che forse è il punto più debole di tutto l'impianto programmatico dell'Unione non a caso quello di cui si discute di meno c'è più imbarazzo anche a discutere terrenominato vedo questo impianto programmatico ingappiato dentro una camicia di forza dentro compatibilità che rimandano da un lato a un'idea dell'integrazione europea e dell'Unione europea sostanzialmente coerente coi trattati di Maastricht e poi di Lisbona col patto di stabilità sento un'assenza di criticità anche modesta nei confronti di questo impianto che è poi l'impianto che è stato invece fortemente criticato e messo in discussione per esempio nei referendum di Francia e Olanda non è che la cosa mi sorprenda Prodi è stato Presidente dell'Unione europea per 5 anni era improbabile che il programma che porta l'imprimatur di Romano Prodi contenesse forti elementi di discontinuità con l'esperienza precedente dell'Unione europea ma certamente questo è un punto un punto debole e non mi addentro perché la questione è forse di tutte le questioni di politica estera del nostro paese forse la questione più complessa cioè il rapporto con l'Europa qua l'Europa materia di discussione anche tra i comunisti diversamente collocati tra le forze di sinistra anche più avanzate in Italia e in Europa e vedo un'altra camicia di forza che ingabbia il programma che è la fedeltà a critica alla Nato il rapporto si dice e si scrive di alleanza leale con gli Stati Uniti d'America nessun cenno non dico alla questione delle basi Nato cenno che quantomeno alluda un percorso senza velleitarismi ma nessun cenno per esempio alla questione delle basi americane che non fanno parte del sistema integrato della Nato che come sapete sono dotate di totale extraterritorialità e che non esistono in tutti i paesi che fanno parte della Nato esistono e sono regolate da patti segreti in alcuni paesi tra cui l'Italia o il tema ad esempio della presenza di armi nucleari di armi di sterminio di massa nelle basi Nato e nelle basi americane presenti sul nostro paese ci sono paesi che fanno parte della Nato che però sono paesi neutralizzati che hanno posto questo questo vincolo per dire non fraintendetemi non che non vada a posto la questione della Nato ma ci si può anche stare in una certa fase c'è modo è modo di starci c'è un modo dinamico che pone anche il problema della fuoriuscita da alcune compatibilità io qui vedo un modo fondamentalmente statico che non vuole toccare il problema persino per certi versi più arretrato di quel cenno coraggioso che fece a suo tempo agli inizi del primo governo Prodi il vice premier Veltroni che certamente non è un estremista di sinistra forse ricorderete parlò in un intervento importante della necessità di che era venuto il momento di prendere che il Parlamento esaminasse i patti che regolavano le basi Nato le basi americane di desecretare quello che fino a quel momento era rimasto segreto dopo 50 anni dopo che era finito il mondo diviso in blocchi vi fu questa timida ma al tempo stesso coraggiosa apertura di Veltroni allora che poi cade nel dimenticatorio non vi è traccia di tutto ciò nel programma nel programma dell'Unione e non mi sembra un buon un buon segnale vedo la riaffermazione di un di un impianto transatlantico di forte relazione transatlantica tra Unione Europea e Stati Uniti come limite invalicabile e vedo purtroppo nel quadro europeo anche nei due paesi come Francia e Germania che pure nel momento della guerra della seconda guerra contro l'Iraq avevano rappresentato un elemento di contraddizione con la politica di Bush vedo uno slittamento soprattutto in Germania con la grande coalizione moderata guidata dalla signora Merkel ma anche in Francia dove il gollismo si è diviso tra una componente che tende a che cerca di conservare il meglio dell'indipendenza dalla politica estera della Francia e una parte invece che scivola verso un impianto sempre più diciamo di lealtà transatlantica e badate al di là dei programmi di quello che c'è scritto nei programmi che contano poi contano i rapporti di forza e contano anche il posizionamento delle forze politiche non so se avete seguito porta a porta ieri sera il confronto con Prodi Prodi esplicitamente ha richiamato l'attuale collocazione della Germania della signora Merkel come punto di riferimento per quanto riguarda la collocazione dell'Italia in ambito europeo nel contesto di relazioni diciamo di amicizia con con gli Stati Uniti il che mi pare come dire un arretramento anche rispetto ad una valorizzazione dell'asse franco tedesco così lo chiamammo allora nel momento in cui appunto ci fu la guerra la guerra contro l'Iraq per non parlare è già stato ricordato dei pronunciamenti filo israeliani di Rutelli che in questo modo si è anche guadagnato oggi l'elogio di Mieli nell'editoriale del Corriere della Sera i quasi pronunciamenti alla Rutelli del leader dei democratici di sinistra del segretario Fassino al punto che una figura del quadro politico italiano ripeto è certamente non un estremista di sinistra come Massimo D'Alema per il solo fatto in due occasioni recenti di essersi permesso da una parte di criticare e di definire assassini quelli che hanno comandato il bombardamento al fosforo su fallugia sulla popolazione civile e dall'altra di avere criticato la politica di Israele l'uso della violenza da parte della politica di Israele nei confronti dei palestinesi di essersi meritato i rimbrotti dell'ambasciatore israeliano in Italia che ormai dà pagelle a tutti che definisce di liberto un terrorista lo definì un terrorista dopo l'incontro in Libano con gli Hezbollah oggi scrive sono dichiarazioni di pochi giorni fa a proposito di liberto forse sarà un ministro e un ministro italiano che appoggia il terrorismo e che aggiunge prendendosela in questo caso con rifondazione comunista e con la presenza del palestinese Ali Rashid che non è un estremista detto per inciso nelle liste di rifondazione l'ambasciatore israeliano che afferma che la sua candidatura nelle liste di rifondazione è una vergogna per l'Italia questo al di là ci sono i limiti e le debolezze e le contraddizioni del programma ci sono poi come dire i rapporti di forza e le posizioni concrete la materialità delle posizioni di una serie di forze che a tutt'oggi sono le forze maggioritarie all'interno dell'Unione che prefigurano diciamo un quadro complesso per quanto riguarda un eventuale futuro governo dell'Unione di cui pure tutti auspichiamo ovviamente il successo perché i comunisti non sono mai stati per il tanto peggio e non c'è dubbio che le frazioni del capitalismo e se volete anche dell'imperialismo che oggi sostengono il governo dell'Unione sono frazioni meno aggressive meno pericolose meno militariste guerra fondai e meno pericolose per la pace mondiale e che i comunisti non sono mai stati indifferenti rispetto anche alle contraddizioni che si manifestano all'interno di schieramenti sociali e politici che pure considerano schieramenti politici e sociali avversi vorrei aggiungere nei due o tre minuti che mi rimangono un cenno alla questione dell'articolo 11 trovo mi permetto anche di fare un invito al mio partito e anche al partito dei comunisti italiani perché questo tema non sia lasciato cadere nel dimenticatoio nel programma dell'Unione tra le tante contraddizioni viene sposata una interpretazione dell'articolo 11 della Costituzione che lasciatemelo dire è l'interpretazione con cui Ciampi e Berlusconi hanno avallato la presenza dell'Italia in Iraq considerando la presenza non belligerante cosa intendo dire che sulla famosa seconda parte dell'articolo dell'articolo 11 che fu scritto in un'epoca in cui non c'era la Nato in cui non c'era l'Unione Europea c'erano solo le Nazioni Unite come organismo diciamo così riconosciuto dalla comunità internazionale come organismo collettivo che l'Italia era un paese a sovranità limitata sì sì ma allora quella seconda parte dell'articolo 11 che peraltro non avallava nessun tipo di ricorso alla guerra perché lo Statuto delle Nazioni Unite non contempla nessun tipo di ricorso alla guerra neanche su mandato ONU la guerra che non sia guerra di difesa da un'aggressione esterna cosa diversa è l'uso della forza in alcune situazioni ma ripeto anche qui il discorso ci porterebbe lontano ma nel programma dell'Unione vi cito testualmente dopo aver ribadito che l'Italia sarà alleato leale degli Stati Uniti si afferma si scrive cito testualmente noi pensiamo per l'oggi e per il domani che non sia possibile un impegno delle forze armate italiane fuori dai confini nazionali senza un mandato diretto e preciso delle Nazioni Unite e della Unione Europea e quindi e quindi nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione italiana ovvero si accredita e questo io lo considero grave una interpretazione dell'articolo 11 per cui non solo il mandato delle Nazioni Unite accredita legittima un intervento militare fuori dai confini nazionali poi si dice non non per fare una guerra ma con funzioni di polizia internazionale vi ricorderete bene che la prima guerra dell'Iraq fu definita non una guerra ma un'operazione di polizia internazionale quindi anche qui l'ambiguità così come intervento umanitario fu definito l'intervento l'intervento contro la Jugoslavia ma si accredita l'idea che il mandato dell'Unione Europea è vero che c'è una E ma anche qui siamo nel campo del mandato delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea e quindi nel rispetto dell'articolo 11 comunque il fatto stesso che se ne debba discutere lo considero un elemento come dire di scarsa garanzia per il futuro della politica estera italiana e cioè la possibilità di considerare un mandato dell'Unione Europea come sufficiente per poter giustificare un intervento militare fuori dai confini nazionali già Veniere ricordava le contraddizioni e le debolezze dell'impianto programmatico dell'Unione soprattutto della protezione delle maggiori forze politiche rispetto al tema dell'Iraq e io sono completamente d'accordo con quello che tu dicevi cioè il punto vero è che non si vuole dare un segno di autonomia e di discontinuità con la politica degli Stati Uniti si cerca di conciliare la questione del ritiro delle truppe italiane dall'Iraq e di collocarlo dentro un percorso che non porti che non rappresenti un elemento di contraddizione con la politica degli Stati degli Stati Uniti ma anche su altri anche su altri versanti che come dire che riguardano sì e concludo su questo punto la regione del Medio Oriente questa dichiarazione di fedeltà a un impianto transatlantico non promette niente di buono per quanto riguarda il futuro atteggiamento di un possibile governo dell'Unione nei confronti di una serie di scenari di crisi che qui sono stati richiamati quale rapporto con la Palestina governata da Hamas legittimamente governata da Hamas quale rapporto con l'Ustia Iran dove mentre la Russia di Putin non europea anche la Germania anche la Francia tendono ad avvicinarsi alla posizione non alla posizione a cui gli Stati Uniti alludono sempre più di un possibile intervento militare ma comunque a una posizione che non ricerca una soluzione politica diplomatica che rispetti la sovranità e il diritto dell'Iran ad avere una sua politica nucleare e civile non promette nulla di buono per quanto riguarda il dossier Siria e allude ad un rapporto appunto tutt'altro che di equivicinanza rispetto al conflitto israelo-palestinese una crescente subalternità alla politica israeliana non credo di dire un'esagerazione se dico che mai l'Italia dalla nascita dello Stato di Israele aveva avuto e non mi riferisco solo al governo di Berlusconi ma anche all'atteggiamento e all'orientamento che sta via via prevalendo anche nelle componenti più moderate interne all'Unione una politica così subalterna e acquiescente nei confronti di Israele nulla a che vedere con quella che fu la politica di Moro la politica di Andreotti la politica di Craxi che oggi apparirebbe una politica non so presentabile anche loro sarebbero collocati nella lista dei candidati impresentabili quindi ho finito ci sono le contraddizioni le debolezze del programma ci sono ancora più gli orientamenti prevalenti nelle componenti moderate dell'Unione questo prefigura un quadro tutt'altro che pacificato e per questo bene la vittoria dell'Unione auguriamoci in questo quadro un avanzamento delle componenti di sinistra radicale delle componenti di ispirazione comunista e prepariamoci a una fase politica se l'Unione elingerà le elezioni che sarà tutt'altro che una fase politica priva di discussioni di conflitti di battaglie politiche e di movimento in Parlamento nel Paese all'interno della maggioranza dell'Unione e credo che questo pone alle forze comuniste e di sinistra più radicale anche il problema se vinceremo le elezioni di quale dovrà essere il posizionamento di queste forze rispetto alla formazione di un eventuale governo Prodi e cioè se sia opportuno che ministri partito dei comunisti italiani di rifondazione comunista di altre componenti di sinistra radicale facciano parte a pieno titolo di un governo che nasce su un programma che presenta a mio modo di vedere grandi debolezze e contraddizioni o se al contrario non sia più coerente e funzionale all'esigenza di tenere comunque aperta una dialettica e anche evitare un'eccessiva corresponsabilità all'interno di politiche non condivisibili dalle componenti più conseguentemente di sinistra se non sia più coerente e confacente a questa esigenza una collocazione di sostegno esterno di collocazione all'interno della maggioranza ma non nel governo non approfondisco questo aspetto perché mi rendo conto che come dire la fase pre-elettorale la fase di campagna elettorale è la fase meno indicata per affrontare una problematica di questo tipo ma io credo che dopo le elezioni all'indomani del 9 di aprile del 10 di aprile questa questione di quale posizionamento dei comunisti delle forze di sinistra critica all'interno di una eventuale maggioranza che sorrega il governo è un problema che ci troveremo ad affrontare sarà un problema tutt'altro che semplice per le forze che vogliono mantenere insomma che vogliono tenere insieme l'esigenza al tempo stesso di creare un'argine alle componenti reazionarie di destra all'interno del nostro paese quindi di non dare spazio alla destra ma anche evitare che i comunisti comunque collocati e le forze di sinistra critica vengano risucchiati in una logica di avallo subalterno in questo caso ad una politica estera che su molti aspetti è una politica estera che non che non ci appartiene che non contiene quegli elementi quei segni di discontinuità che invece le componenti più conseguentemente di sinistra auspicano e io credo continueranno ad auspicare grazie grazie Pausto Sorini prima di dare la parola per brevi domande o brevi osservazioni vorrei ringraziare innanzitutto come associazione gli amici e compagni di Arco Iris che anche stasera sono qui con noi a questa serata diciamo iniziale di questo nuovo gruppo di lavoro erano con noi anche lo scorso primo ottobo a Viareggio al nostro premio nazionale della letteratura migrante in Italia e quindi ancora grazie di questo supporto e di questo sostegno che ci dà vorrei dare brevemente la parola a Stefano Pieralli che è il presidente del nuovo circolo del nostro gruppo di lavoro di Bologna per presentare anche un attimo l'associazione e poi dare la parola a alcuni compagni che hanno chiesto di intervenire veramente molto brevemente perché potrei lasciare spazio al dibattito e comunque ai nostri oratori che hanno cose sicuramente analisi più interessanti voglio semplicemente precisare cosa stiamo cercando di fare perché abbiamo voluto far nascere il punto critico anche a Bologna abbiamo sentito dalle analisi autorevoli di stasera quanto sia difficile la situazione complicata sia a livello di geopolitica internazionale sia a livello di alleanze di governo del nostro paese riteniamo quindi che sia necessario rilanciare in termini di analisi ma anche se si vuole quasi di pedagogia una riflessione voler rilanciare adesso nel nuovo secolo cosa vuol dire fare una critica geopolitica di ciò che sta avvenendo dei processi imperialistici in atto e cominciare a capire quali possono essere l'analisi di una ricostruzione a sinistra del nostro paese dei processi mondiali comunque molte delle cose che abbiamo sentito stasera come fare questo noi viviamo in un paese particolarmente in Italia dove la sinistra le intelligenze le persone che analizzano più competenti su questi temi le forze che naturalmente in altri paesi che ormai si trovano assieme ragionano e si muovono in forza noi in questo momento in Italia abbiamo una sinistra delle forze progressiste sparpagliate divise in vari partiti fuori alcuni addirittura spasso a casa a non fare più mura per cui solo l'elemento partito non diventa e non è di per sé risolutivo dell'analisi della possibilità di mettere assieme più persone più menti più forze capaci di analizzare e di fare pedagogia e non solo nell'ambito io ricredo comunista di sinistra che c'è ci sono anche ambiti da questo punto di vista cattolici di altre aree molto interessanti noi abbiamo pensato e ci siamo detti Bologna è una città importante a Bologna abbiamo visto abbiamo compagno Sorino abbiamo altre forze abbiamo il nostro piccolo noi altri compagni che anche per vari motivi so Poggeschi centri cattolici o se no anche l'amico Meri che ti viene compagno dopo la tua analisi mi viene automatico chiamarti compagno se parla di compagni della sinistra compagni della destra potrebbe parlare che probabilmente se fosse stata promossa questa iniziativa con qualsiasi simbolo di partito avrebbe avuto dei problemi a poter partecipare a poter essere per cui la necessità di riuscire a mettere assieme tutte queste forze tutte queste interventi c'era questa struttura già nata già esistente da alcuni anni a livello nazionale che ci ha concesso la possibilità di costituire questo anche a Bologna non sappiamo che dinamiche e che strade avrà adesso i compagni volenterosi hanno deciso di farlo nascere noi abbiamo fatto domanda al centro Poggesco un centro di area cattolica che dovrebbe aderire e darci la sede presso loro per cui darci anche un luogo fisico in cui incontrarci la nostra intenzione è aprirci invitiamo tutti chiunque voglia senza nessun tipo di perclusione a venire ad aiutarci a cercare di aprire un dibattito cercare di affare e produrre iniziative soprattutto in questa fase come diceva giustamente il Fausto nel suo intervento che non è di per sé necessariamente risolutiva poter vincere rispetto alle destre è un primo di una serie di lunghissimi passi che si dovrebbero correre noi abbiamo valutato che la nascita di questa associazione di punto critico potrebbe essere quel campo quel territorio intermedio che sicuramente nessun partito in questo momento può coprire nessun'altra forza in cui aprire un forte dibattito in cui riuscire a esprimere forti iniziative in cui riuscire a provare ad analizzare assieme a mettere assieme anche persone che possono partono da punti di vista diversi e casomai se ci riusciamo nel nostro piccolo a fare anche un po' di pedagogia ringrazio la introduzione dell'associazione ho portato attentamente quello che i compagni e gli amici hanno detto rispetto alla politica estera che dovremmo insieme speriamo di poter portare avanti all'interno dell'unico e io è da qualche anno che milito e lavoro in politica e ricordo i fatti di Sigonella Craxi che all'interno di una base americana in un aeroporto di americani ha fatto circondare un aereo da carabinieri per far sì che un terrorista perché lui era un terrorista non lasciasse l'Italia e se poi penso ai giorni nostri voi sapete tutti chi era Craxi socialista che non certamente rivoluzionario che insieme a Monsignor Cappucci perché se lo ricorda era un prete che ha votato insieme alla democrazia cristiana per la liberazione della Palestina per il riconoscimento della Palestina e passando facendo l'analisi delle cose sentite un flash velocemente ma allora anche il Vaticano si batteva per queste cose insieme a Monsignor Cappucci c'è stato da allora secondo me uno spostamento a destra complessivo della politica italiana ma anche del Vaticano fortissimamente del Vaticano voi avete visto nessuna presa di posizione da parte del Vaticano sul muro questo muro che diventava liberatorio per quel che riguarda il muro di Berlino che ha fatto una rivoluzione abbattuto le frontiere qui invece si lascia costruire senza proferire parole senza dire niente ricordo una campagna si chiamava Salam ragazzi dell'Ulivo dove insieme ai boy scout i ragazzi cattolici finanzieravamo la crescita e lo studio dei ragazzi palestinesi allora c'era Shabri Shatila gli stessi cattolici parlavano dell'ex presidente di Israele come il macellaio di Shabri Shatila adesso se dicessimo una cosa del genere che è come se avrebbe stimato un santo e queste sono le cose che viviamo che non dobbiamo dimenticare e quindi all'interno dell'Unione quando il presidente della Margherita dice che la cosa più utile che ha fatto Berlusconi è il riconoscimento dello Stato palestinese non tanto dello Stato del governo palestinese lo Stato lo aveva già riconosciuto lo Stato lo aveva già riconosciuto e quindi un altro spostamento destro rispetto alla politica che dobbiamo tenere presente allora io credo è un'altra cosa importantissima tutti i soldi che noi abbiamo raccolto in questi anni come ANCI come partiti politici che secondo me in maniera delinquenzale i governi israeliani hanno distrutto fisicamente con i missili finanzieravano le scuole e questi distruggono le scuole è possibile che nessuno renda conto di queste cose non ci si rende conto è possibile che due partiti all'interno dell'Unione e sto pensando allo SDI allo stesso SDI che in teoria dovrebbe essere il partito di Craxi insieme a Pannella che è il peggior anzi il miglior alleato che il governo israeliano ha in Italia sono insieme è possibile nessuno dice niente questi sono filo americani filo israeliani insieme ai socialisti di Craxi quel Craxi che circondava l'aereo con i carabinieri si permettono di criticare noi perché facciamo le manifestazioni io non so se essere scandalizzato non voglio fare la Vergine perché non mi piace ma non ci rendiamo conto di queste cose e soprattutto torno a dire questo Vaticano che nel suo spostarsi a destra sempre meno laico invade sempre di più quelle che sono le scelte in questo caso anche di politica non solo nazionale con i vari attacchi alla 194 eccetera eccetera ma addirittura attacca anche e fa sì che il torno a dire il presidente della Margherita Rutelli possa dire e fare le cose che fa beh io credo che noi un atto di denuncia rispetto a queste cose il Vaticano dobbiamo fare perché se hanno il diritto loro giustamente di esprimersi rispetto alla politica nazionale perché non ci dobbiamo esprimere noi ma davvero senza regole rispetto alla politica di destra che fa il Vaticano rispetto alla politica internazionale io volevo solo opporre questo da vostro punto grazie una cosa bellissima calcolando che credo che il programma dell'Unione è di fatto blindato cioè nel senso più di tanto che si potesse fare anche perché l'apporto della sinistra dentro l'Unione è quella che è nel senso non si può neanche troppo barare calcolando questo quindi giustamente c'erano alcuni compagni che dicevano non possiamo andare al tanto peggio dobbiamo cercare di vedere le contraddizioni nei blocchi imperialisti nello stesso nostro fronte dando per scontato questo però secondo me c'è un altro passaggio che inizia a fare cioè cosa noi materialmente potremmo fare nel senso al di là dell'inquilibrio al di là di quello che possiamo e secondo me nel senso anche cose immediate ce ne sono successe ci sono stati dei ritardi effettivi nella sinistra ma nella sinistra nelle città anche nelle articolazioni territoriali io penso all'attacco che hanno fatto ormai continuo contro e non per ringraziare sul rispetto alle comunità islamiche qua in Italia cioè attacco di limano quando c'è un oggetto di liberazione e tutto e di fatto c'è stato quasi una specie di silenzio c'è stato tutto un attacco di delegittimazione politica alle formazioni che legittimamente sono andato al governo nei paesi del Medio Oriente tutto l'arco politico è rimasto scandalizzato perché Hamas ha vinto in Palestina io personalmente siamo alcuni compagni abbiamo giunito perché Hamas ha vinto e attenzione Hamas ha vinto e le formazioni di sinistra marxiste palestinesi hanno iniziato ad avere rapporti con Hamas per andare a governo da cui il fronte popolare formazione che non aveva fortissimi attriti con l'NP nel senso questo perché che rappresenta una prospettiva non più pietista nel senso perché io capisco compagni che noi per esempio quando dobbiamo parlare di Medio Oriente delle cose dobbiamo parlare del bambino che viene bombardato del bambino che viene però potremmo anche almeno al nostro interno dire signori questi qua stanno anche riorganizzando stanno provando a dare forme di resistenza quanti potevano scommettere sulla resistenza irachena ce lo ricordiamo tutti è la pubblicistica della sinistra arrivano gli americani sbaraglieranno tutti nel senso dopo qualche mese hanno detto cavolo però questo esercito iracheno che era sparito che riappare in forme diverse a dirissura stanno venendo fuori che negli istituti militari due anni prima dell'invasione americana questi qua studiavano su testi jugoslavi e russi sapete perché studiavano su testi jugoslavi e russi difesa popolare per la difesa popolare nel senso la stessa cosa guarda caso che la stavano iniziando a introdurre in Venezuela nel senso perché non ragionano più come diciamo eserci militare uno contro l'altro ma si danno fuori di difesa diversa ecco tutti questi elementi che è vero sono minorità però dovremmo iniziare a entrare anche nel nostro linguaggio di significare che dopo tantissimi anni esiste forme di resistenza popolare di massa che si stanno andando nel pianeta e peraltro stanno anche iniziando ad avere delle articolazioni e qua concludo noi è vero che facciamo una differenza fra Europa e Stati Uniti è vero che ci sono delle differenze è vero che dobbiamo se uno ti mette il discorso della torre è il senso secco chi butti giù butti giù gli Stati Uniti e non l'Europa però non si saluterei che esiste attualmente un'altra ipotesi nel senso pensiamo ai rapporti che stanno nascendo tra alcuni governi in Sud America con il mondo arabo io non spunterei che Chavez ha detto veniva che l'Iran abbia l'atomica nel senso e non mi scandalizzerebbe neanche che ci sono avessi un'altra fine militare poi non si capisce perché Israele può avere la fine militare gli altri no ma insomma è questo almeno nel nostro interno dovremmo dire queste robe così come questi stessi paesi potranno iniziare ad avere un rapporto con la Cina e questo cosa vuol dire potrebbe nascere anche un terzo polo molto negli Stati Uniti e l'Europa e come comunisti credo che dovremmo guardare a quelli e concludo con una battuta negli Stati Uniti i bianchi che lottavano assieme ai neri venivano chiamati traditori della razza no? nel senso c'è una virtù dei gruppi di bianchi che si chiamano noi siamo i traditori della razza ossia la nostra la nostra stessa pelle no? per lottare con i neri e io credo che quello che di fatto cioè se la sinistra capisce questo meccanismo avverrà perché se no l'alternativa è comunque rimarremo schiacciati ma non perché c'è uno slittamento a destra no? perché diciamo questi nuovi componenti stanno emergendo stanno diventando sempre più forti ma giustamente stanno reclamando un loro diritto ad esistere ma non solo a resistere ad esistere e quindi bisogna avere anche l'intelligenza ovvio capisco le mediazioni di istruzione cioè non però se avessimo più diciamo a volte la capacità di insistere anche su questi elementi secondo me diciamo alcuni spazi si potrebbero aprire e soprattutto si darebbe un'idea di una prospettiva di amanti che è intesa di un sempre di una cosa che si sta sempre più restringendo a Grazie a tutti.